L'ascoglienza di chi viene da guerra, fame, carestia, perché le nostre porte, le nostre case, le nostre chiese possano aprirsi. Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Eccomi, eccomi, Signore io vengo, eccomi, eccomi. Si compia in me la tua volontà. E mio Signore ho sperato, che il suo rivecce è finato. Ancora solta il mio Signore. Ancora solta il mio Signore. Ancora solta il mio Signore. Quora solta il mio Signore. Ancora solta il mio Signore. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti